Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, nuovamente qui, episodio 4 di Dyson Sphere Programme. Avete commentato in tanti, mi avete consigliato cosa fare e mi avete detto una cosa che poi alla fine ho scoperto da solo, alla fine del video precedente, e che questo può essere velocizzato piazzandone due, ma piuttosto anche può essere, diciamo, invece che posizionato qui dentro, stipato qui dentro per l'accumulo e poi l'utilizzo, posso creare uno di questi e focalizzarlo semplicemente sulla ricerca. Ed è quello che io farò adesso, in questo momento. Andiamo a prendere la Matrix Lab, non possiamo produrlo perché dobbiamo fare il vetro e l'acciaio, no, l'Iron Ingot, quindi, 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 quindi il vetro lo si fa con questo, ne facciamo un po', dobbiamo farlo con la Stone, quindi andiamo a prenderci un po' di Stone, che dovrebbe essere qua in alto, e la facciamo. Entra intanto qua continuiamo con la produzione di queste cose che secondo me un giorno ci serviranno, poi ovviamente io adesso questo gioco preferisco godermelo proprio tranquillamente, senza andare e correre, e andare verso, non so, l'esplorazione spaziale, piuttosto che chissà che altro. voglio un po' più godermelo piano. Quindi, avevamo detto, poi io tra un gameplay e l'altro non mi ricordo più una ceppa, quindi devo rifocalizzarmi ogni volta. Allora, possiamo fare questi, tre di questi. Ok, il vetro invece si produceva anche lui con questo, mannaggia, mannaggia. Allora facciamo il vetro. Facciamone un po' di vetro. Ok, devo andare a ricaricarmi le batterie, quindi andiamo giù alla produzione di carbone e prendiamoci un po' di carbone, che poi avevamo visto appunto che la produzione di carbone era utile per produrre qualcos'altro, però appunto come dicevo non me lo ricordo. Quindi qua il magazzino è pieno, quindi ne prendiamo un po' e poi andiamo a posizionarlo all'interno della nostra camera di combustione personale, così ricarichiamo un po' la nostra energia. Abbiamo prodotto quello che dovevamo produrre, vediamo adesso se riusciamo a farlo. No, mi mancano ancora degli iron ingot. Iron ingot che voglio andare a prendere di qua, che faccio davvero prima. Olè. Prendine 100. Perfetto. Dai, producimi questo allora. Fa meno uno. Uno mi basta. Ok, poi lo posizioniamo di là, ci piazziamo un po' di rulli, sta arrivando intanto la notte. Piazziamo un po' di rulli che esce dal magazzino e va verso il magazzino polmone e lo mettiamo qua magari, se ci sta, se ci sta, vediamo. Allora, intanto l'abbiamo prodotto, lo abbiamo qui, lo mettiamo qua, si ci sta, direi di sì. E anche alimentato. Qui, così. Poi, prendiamo i rulli, che vanno di là. Ok, così direi che vanno bene. Perfetto. Poi, dobbiamo produrre questi qui, un paio. Possiamo farne ben 55, noi ne facciamo un paio. che da qui butta dentro e da qui butta fuori. Ok. A posto. Ok. Ovviamente adesso viene tutto accumulato, perché? Perché qui dobbiamo dirgli di produrre... Allora, qua intanto abbiamo la produzione con la grafite e l'idrogeno. Quindi progetteremo un'altra produzione anche di questo. Quindi di grafite, di grafite e idrogeno, di cui uno dei due l'abbiamo già. No, io voglio fare ricerca. Quindi la ricerca, vedete che adesso inizia già ad accumularmela qui. Mi produce ricerca. E quindi magari andiamo a cercarci qualcosa di utile. Magari qualcosa... Non lo so. Magari negli upgrades. Universe Exploration. Proviamolo. Ci sta producendo ricerca in modo comunque piuttosto veloce. Vedete che sta andando avanti. Quindi questa è una cosa molto molto utile. Allora, qui adesso, qua abbiamo questo. L'idrogeno, no? Abbiamo la produzione di idrogeno. Ci serve per la produzione di cubi rossi anche quell'altro, che era il... Ok, vedete che abbiamo già ricercato. Ora abbiamo la possibilità di vedere la distribuzione. Vedete, abbiamo sbloccato l'esplorazione dell'universo. Ora puoi cliccare sul tab Dettagli. Nel basso, destra, insomma, sì. E questi. E vedere che cosa viene la distribuzione delle vene. E così via. Dovremmo forse poterlo fare anche sul pianeti. Vediamo un attimo. Planet Lava. Ok, questo è un altro pianeta di lava, che però non abbiamo modo di andare a vedere. Vabbè, allora, dicevo, dobbiamo andare a produrre... Adesso, scusate, torno sul mio omino. Allora, dicevamo, la produzione di queste barre qua richiede un sacco di carbone. Quindi, io farei... Allora, abbiamo il magazzino del carbone. Deve arrivare, più o meno, magari, lo facciamo in questa zona. Magari, no? Quindi, creiamo subito un assemblatore... No, uno smelter, scusate. Se non ce l'abbiamo già, lo creiamo. Creiamo uno smelter che ci fa quel materiale lì. E lo posizioniamo qui. Lo facciamo proprio ultra veloce. Quindi, poi, prendiamo anche i due rulli, che vanno da qui a qui. Produciamo altri due di questi. Intanto mi molla le cose in giro. Allora, questo esce da qui. Va lì. E questo da qui va lì. Tu mi produci queste barre qui. Perfetto. Questo fa da magazzino un punto polmone. E tu produci come un pazzo. A questo punto... Adesso, mettiamo in produzione anche un botto di queste cose qui, perché... mi servono. Quindi, iron e gear. Ne produciamo... una decina. Perché dobbiamo trasportare... Intanto che qua si riempie. Il tutto. Sarà un bel percorso qua, eh, da fare. Perché non sarà semplice. Allora, adesso diamo un'occhiata anche qui. Qui abbiamo all'interno l'idrogeno. Quindi, l'idrogeno... Adesso, scusate, ma libero un po' la zona qui. L'idrogeno verrà tolto e buttato all'interno di una di queste. Anzi, in realtà, facciamo un'altra di queste. Ok. Che posizioniamo immediatamente. La piazziamo qui. Perché poi l'idrogeno esce da lì. Va dentro. L'ho piazzata storta. Vabbè, intanto. Da qua. Vediamo se riusciamo a farlo. Sì, dovrebbe andare bene anche così. Ok. Poi, produciamo altri due di questi. Quindi, l'idrogeno viene buttato qua dentro per la produzione di questo. Quindi, idrogeno e gli altri. Gli altri vanno trasportati. Quindi, indubbiamente, bisogna fare un lavoro di trasporto sopraelevato. In modo che arrivi di là. Quindi, ci costerà un botto. Ci costerà un botto davvero. E io metto in produzione altre dieci di queste. Poi mi mancano le rotelle, le gear che... Le gear si fanno con... Non mi ricordo mai... Sempre con l'iron. Ok. Allora, iniziamo. Quindi. Prendiamo queste. Le mettiamo qua. Vedete che arriva qui. Solleviamo. Ok. Iniziamo con questa produzione. Abbiamo già consumato un botto, la metà, di quello che abbiamo. Ok. Poi. Bisogna andare di là. Quindi, continuiamo. Un pelo di qua. Ok. Poi. Basta. Poi gli dico di continuare... Intanto stiamo producendo, come se non ci fossero domani. Di qua. Perfetto. Molto bene. E a questo punto, io gli dico di scendere tranquillamente. Anzi, ed è ben finita. Quindi, dobbiamo andare a prenderci dell'altro iron. Tanto qua producono. Stiamo consumando un sacco di energia. E poi bisogna fare anche altri di questi. Quindi ne faccio un po' va. Ah, altri due soltanto. Ok. Abbiamo finito proprio il metallo. Quindi andiamo a prenderci un po' di iron dal magazzino. Anche perché qua... Beh, prendiamoci questo. E ci prendiamo anche un po' di questo. Un paio di centinaia di quelli. Così almeno... Facciamo quello che ci serve. Poi. Iniziamo già a piazzare il sorter. Da qui a là. Ok. Qua manca. Perché manca? Ok. Perché mi sono allontanato. Quindi, ok. E adesso fatemi... Ah, ma qua ne ho ancora. Me li stavo producendo ancora. Ok. Voglio da qui che me li portiate. Must be horizontal. Ok. Vai fin qua. E poi scendi. Fin qua. Ok. Bene. E poi il sorter. Che da qui va in dentro. Ah, devo aspettare come di carino. Eccoli che arrivano. Mamma mia. Siamo stati proprio velocissimi in sto giro. Allora, questo. Che da qui va dentro. A questo punto, io gli ho già detto, producimi quello. Quindi, io adesso devo mettere un altro sorter di qua. Spero si riesca a fare. Ma penso di sì. Ok. Vediamo se funziona. Ok, infatti. E poi me ne serve un altro sorter che da qui butta dentro. Ok. Abbiamo iniziato anche la produzione di cubi rossi. Molto bene. Bisognerebbe poi prendere entrambi i cubi rossi. E trasportarli tutti qua dentro. In questa cosa qui. Che è quella adibita alla ricerca. Mentre qua vedete che la produzione indicata dall'icona è quella, questa qui. è lì, è lì, è lì, è lì, è il cubo rosso. È figo il fatto che ci siano comunque in sovrimpressione gli oggetti prodotti. Adesso abbiamo ricercato questo. Adesso abbiamo ricercato questo. Vediamo se abbiamo qualcosa, meca core. Che cosa fa? Ah, aumenta il limite massimo di energia del Mac. Vabbè, ma non mi interessa. Adesso io voglio tornare alle tecnologie e vedere se riesco a fare qualcosa. La thermal power. Questa qua praticamente brucia carbone. E produce energia. Però, non mi interessa più di tanto, però mi sblocca anche il Deuterium Fractional. Che praticamente mi dà la formula del Deuterium, il Fractionator. Che praticamente prende vantaggio della pressione dei vapore dell'idrogeno. Vabbè, questa è una cosa che faremo più avanti. Volevo sbloccare qualcos'altro. Idrogen Fuel Road. Che è molto interessante perché è una barra energetica di idrogeno. Che ci consente di alimentare anche noi stessi. No, ma cos'è che stavo cercando l'altra volta? Questo. Il Chemical Plant. Puoi processare i prodotti primari del Crude Oil in prodotti più avanzati. Acido solforico. La plastica. E anche la plastica è molto interessante. E dovremmo cercare l'idrogen fuel road. Se vogliamo fare i thruster e poi andare nello spazio. Magnetic Levitation. Questo qua invece è praticamente interessante. Una turbina elettromagnetica. Che ci consente di levitare contro la gravità. Per fare campi magnetici. E' tutto molto molto interessante. Non saprei cosa sviluppare. Solar Collection. Photon. Ok. Energy Storage. E' questo che dovremmo fare. Però non possiamo farlo. Perché dobbiamo fare il Crystal Smelting prima. Quindi facciamo questo. E poi magari in un prossimo episodio andremo a fare le batterie. In modo da alimentarci bene. E senza fine. Anche perché io credo che la produzione sia molto lenta qui. Infatti come vedete ne produce solo dieci. E devo uscire e andare in un magazzino. Come di consueto. Quindi produciamo un magazzino. Mark 1. Quindi mi fa pensare che comunque ce ne saranno due. Poi me lo consigliate sempre nei commenti di fare i magazzini sovrapposti. Ma diamo tempo al tempo. Allora così e così. Magazzino. Bene. Poi già lì. Hai fatto il mio magazzino? Non mai prodotto il magazzino? Perché? Uno. No. Sto producendo l'assembla. Sono un babano. Sono un babano. Sono un babano. Nulla. Allora. No. Lo storage è giusto. È giusto. È giusto. E allora. Eccolo lì. Adesso me l'ha fatto. Ok. Mettiamo qui. Eh. Sorter. Sorter non ce ne sono mai abbastanza. Possiamo farne 248 adesso. È un po' esagerato. Allora. Lì. Là. Qui. Là. Molto bene. Perfetto. Iniziamo a... Poi sì. Trasporteremo tutti. Magari. Il bello di questo gioco è anche quando... Quando imparate a ottimizzare. Eh. Potete comprimere di più. E occupare meno spazio. Però diciamo. Al momento la produzione energetica non è assolutamente male. Eh. Non capisco adesso qua perché stia... Mh. Si sia bloccata la produzione. La ricerca. Lack of metrics. Ah. Ok. Perché non funziona. Non funziona. Siamo ai lento perché... La ricerca funziona con la ricerca che stiamo facendo. Quindi questo è assolutamente bloccato. Cioè stiamo riempiendo il magazzino per niente. Dobbiamo assolutamente produrre altri di questi. Possiamo farne una decina. Perché dobbiamo andare di là. Niente. Per forza di cose dobbiamo ottimizzare la produzione. Produzione che possiamo fare... Ci costerà. Ci costerà un po'. Perché... Qua possiamo uscire... E andare dritti. Lack of item. Click to build. Ok. Andiamo fin qua. Ok. Altri... 2... 4... Ok. Perché... Qui... Ok. Questo è basso. Dobbiamo alzarci. Dobbiamo fare molta attenzione nella produzione di... Nel piazzare questi. Perché... Possono essere... Andiamo fin qua. E poi ci alziamo. Così. Poi ci abbassiamo. Mannaggia, non ho sbagliato. Mannaggia. Ma l'ho sbagliato, sbagliato, sbagliato. Scusate. Ok. Poi questo. Così. Giù. Giù. Ok. Ah, lack of item. Ok. Mi mancano. Ok. Dai, producene ancora. Ok. Iniziamo ad ottimizzare. Costruire. Pico ottimizzare. Da qua a là. Butta fuori. Mamma mia che casino. Ok. Abbiamo altri blocchi. Ok. Gli dico adesso che voglio scendere. Ok. E vado di qua. Ok. Sì, abbiamo fatto un po' una roba un po' così, ma va bene. E questo, da qui, vai dentro o di là. Ok. E la produzione adesso può cominciare. Infatti vedete che sta iniziando a ricercare nuovamente con l'introduzione di nuove parti. Delle due, scusate. Di questo e di quell'altro. Ok. Come mi dicevate, si possono mettere uno sopra l'altro, metterne più di uno, ma dovrei... In effetti un'ottimizzazione potrebbe essere quella di far uscire, però qua non abbiamo una terraformazione e non riusciamo. Dovremmo far uscire da questo rullo, o da questo magazzino, un altro ramo e andare da un'altra parte dove metterne un altro. Però, però, mi sta venendo in mente una malsana idea. Qua dobbiamo produrre questo. Quindi andiamo a prenderci un po' di... un po' di roccia. Perché sto pensando che potrei provare a produrne un altro. Eh, ma no, è un casino. È un casino perché dobbiamo fare... Però, però... Però, non lo so. Proviamo a vedere. Andiamo laggiù. E mi scavicchio un po' di... Un po' di questo. Vediamo. Vediamo. Farne un altro. Riesco a farlo. Producine uno. Ok. Perché se ne piazzo un altro sopra, con un altro rifornimento, magari da un altro lato, velocizzo la ricerca. Perché qua ci vorrà un po'. E non so perché non mi va avanti con questi. Ma in realtà sì, va avanti. Molto lentamente. Ma va avanti. Consuma più rapidamente questi. Mi pare i rossi che i blu. Vabbè, comunque. Ne ho fatto un altro. Dovrei poterlo piazzare in cima. Sì. Esatto. Ho fatto un altro. Ah, non ha bisogno di un doppio rifornimento. No, perché è comunicante. Quindi si va più rapidamente. Questo è uno. Questo è l'altro. Sì. Ok, niente. Consumano 12 kilowatt l'uno. Questo 480, no. Questo Lack of Matrix non va. No, infatti. Questo non va. Non va perché la produzione non è sufficiente. Non è sufficiente, infatti. Eh, la produzione è abbastanza lenta qua. Eh, niente. Sta rallentando un pochino la cosa, ma vabbè. Siamo andati bene per un momento. Abbiamo ricercato quasi un quarto di questa ricerca qui, ma vabbè. Dovremmo aspettare. Dovremmo aspettare soltanto. Mentre invece, qualcuno mi diceva la geotermica, ma la geotermica, proviamo a vedere, ma non dovrebbe esserci. Solar Collection. Solar Sail Orbit. No, 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 no. Geotermica, no. C'è Ray Receiver, che riceve alta energia, raggi trasmessi dalla Dyson Sphere direttamente, no. Ma no, è sempre la trama principale qua. Con quello che abbiamo al momento, aspettando molto, possiamo arrivare fino a questo punto della storia, perché da qua ci chiede già le altre, quindi diventa abbastanza difficile procedere. Mi piacerebbe, siamo al 15% adesso, ricercare l'energy storage per poter sbloccare le batterie. L'accumulator in modo da avere un po' di energia e metterle lì a produrre, fare una sorta di ponte. E poi iniziare a focalizzarmi su tutto quello che è il viaggio spaziale. Quindi iniziare a sbloccare i thrusters, reinforced no, è una cosa in più. E iniziare poi a lasciare il pianeta ed esplorare. Bene, questo era l'episodio 4 di Dyson Sphere Program. Abbiamo, siamo andati avanti un pochino, abbiamo, ci siamo focalizzati sulla ricerca, abbiamo, siamo andati avanti con la produzione del nostro impianto. Qua la nostra pozza d'acqua, diciamo, che è bella, è bella piena, ci servirà, sono sicuro, un giorno. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!